Eccoci qua, siamo sulla cima di questo pier, ovviamente questo molo che sta sul mare, ora facciamo una panoramica, sullo sfondo il grattacieli, intorno una vista incredibile della baia di Tampa, è il 22 novembre, una bellissima giornata, si sta in maniche corte, qui c'è la pista d'atterraggio degli aerei privati per un aeroporto che sta qui vicino, qui c'è un surf di lontananza, è uno spettacolo, oggi non c'è neanche molta gente, è il giorno del Thanksgiving Day, è festa, andiamo a vedere da quest'altra parte, giusto per una panoramica, qui sotto c'è l'orchestra che suona, ecco si potrà sentire in lontananza, un po' di e chissà quanto.